Il processo di automazione del punto vendita alla tecnologia nel campo del turismo ha fatto dei notevoli passi avanti. Come Travelport noi di questo siamo stati testimoni e attori diretti in quanto con Galileo, che era l'azienda in cui poi Travelport si è trasformata, abbiamo contribuito significativamente all'introduzione di tecnologia nel mondo del turismo, nel mondo del retail. Questo processo di innovazione ha subito recentemente un forte rallentamento, questo è dovuto a nostro avviso a due o tre fattori fondamentali, uno di questi è la frammentazione dell'industria che vede una quantità di aziende di piccola dimensione a condizione familiare che non hanno abbastanza focalizzazione su investimenti in tecnologie perché il loro tempo è limitato e devono suddividerlo su altre attività. Dall'altra parte le aziende di più grandi dimensioni nel campo del tour operating e anche del travel management hanno limitato i loro investimenti penalizzando in questo modo la loro filiera distributiva che comunque si basa sulla tecnologia. In parte questo è dovuto alla crisi economica, in parte anche a problemi di tipo infrastrutturale che sono presenti in Italia. Questo è forse il terzo elemento, se questo rallentamento in atto non è forse completa responsabilità delle imprese ma è anche legato a una carenza infrastrutturale che in questo momento caratterizza il nostro paese, specialmente se lo guardiamo dal punto di vista geografico, c'è un notevole divario nord-sud in termini di accesso ai servizi di connettività e alla larga banda. Studi di Confindustria ci parlano di un divario di 25 punti percentuali fra il sud del paese e nord del paese per quanto riguarda l'accesso alla larga banda. Questo sicuramente penalizza la fruizione delle nuove tecnologie ed è in questo che a nostro avviso il sistema Italia dovrebbe contribuire con investimenti, con innovazione per supportare l'industria del turismo. Il GDS per quanto riguarda Travelport è un'organizzazione di business al servizio del business delle agenzie di viaggio sia online che offline. Da questo punto di vista non ci sono inimicizie, anzi le agenzie di viaggio online sono nostri clienti, non ci sono assolutamente progetti di fusione per quanto ci riguarda dal momento che Travelport è un'azienda che non ha alcun contatto col cliente finale, col viaggiatore, ma soltanto con l'elemento della filiera costituita dell'agenzia di viaggio sia tradizionali che online. Internet è il tema da affrontare, è sicuramente una tecnologia di cui non sono ancora state colte forse tutte le implicazioni, le nostre previsioni sono che i migliori esiti dall'uso di Internet ci saranno quando si potranno veramente mettere a fattor comune tutte le tecnologie legate al social networking, quindi fenomeni come Facebook, YouTube piuttosto che altri che realmente portano un valore di comunità agli utenti e di conseguenza potranno avere una ricaduta positiva anche in termini di viaggio per quanto riguarda l'esperienza, del Travel e tutto quello che è associato ad essa. Il problema fondamentale è mettere nelle mani degli operatori del settore, degli operatori professionali, quindi gli agenti di viaggio, degli strumenti di lavoro che consentano agevolmente di consolidare dei contenuti. Qualsiasi agente di viaggio vorrebbe vendere più contenuti possibili, più soluzioni possibili al suo cliente. C'è un costo da pagare in termini di efficienza e di durata, di lungaggine dei processi. Se per effettuare un packaging di un itinerario l'agente di viaggio è costretto a lavorare su 3, 4, 5, 6 ambienti diversi, informatici con linguaggi diversi, questo va fortemente a scapito dell'efficienza. Dal nostro punto di vista noi abbiamo investito massicciamente nell'automazione, ancora di più nell'automazione del punto vendita con una agency in selling platform che ha denominato Universal Desktop che effettivamente consente di integrare contenuti tipicamente nativi del GDS, cioè contenuti aerei, con tutta un'altra serie di contenuti sia gestiti e generati dall'agente di viaggio che catturati da fonti esterne.